Ho conosciuto Paolo nel 2016, noi eravamo in Geres di Cebb, quando Arborino ha vinto la prima gara in Cebb, una cosa stranissima, la prima vittoria di Cebb Paolo è stata anch'io con lui. Ho conosciuto lui perché io ero già secondo anno mondiale, cercavamo una squadra molto contributiva, quindi lui entrava al mondiale a quello punto, ho contato lui e niente, io non parlavo italiano, non capivo niente e lui certamente non parlava inglese, però ho sentito già qualcosa strano con lui, tramite l'iva e lui. Poi dopo la prima volta che è venuto in Italia, lui mi ha fatto dormire a casa sua e lì ho conosciuto Samuel Ross e sua figlia Martina e Morosa di Marco e la Kate. Da lì ho passato tanto tempo insieme con loro, ho diventato famiglia vera e poi soprattutto Paolo è diventato mio babbo italiano. Grazie a tutti.